I wanna wake up in 1985 And kiss your girl in the backseat of my dead scar Never nobody's gone again And nobody calls me a checkin Nobody calls me a checkin Buongiorno a tutti, sono Newtrapress96 E eccoci qui con la seconda parte della nostra apertura di Pokémon Sole e Luna Ultra Prisma Ok, stavolta apriamo le bustine, tutte quelle con Ghiratina Forma Origine Sì Mondo distorto Ok, facciamo procedere, iniziamo Adesso qui ci sarà una carta stella Prisma perché è la prima bustina Ah, la prima bustina è sempre stella Prisma Vediamo Codice Ok Uno, due, tre, quattro Psyco Pore qua Puregli Scantank Rom Elettro Hippopotas Shinx Dupyger Gifol Skorupi Yanmega E Rotom Lavaggio Ok Vediamo cos'altro uscirà Ok GX, visto che è uscito solo 8 piazzi Ok Ok Uno, due, tre, quattro Maggia erba Monferno Pokémon Fan Club Cranidos Si evolve da fossile sconosciuto Infatti Eevee Pulpix di Alola Stanky Yangoose Roselia Drapion Questo non c'è ancora uscito Ah, Shamin Ok Shamin cagnolino Forma cielo Bene Bene, bene, bene Un pacchio Ok Quattro Questa potrebbe essere una full art Ok Speriamo una full art di un personaggio Bell'occhio No È già buio È buio Non mi veniva la parola Primplaps Gardenia Gabai Pacirizu Yanma Markrow Eevee Pulpix di Alola Camilla Su Ma sì Un altro personaggio Buono Buonissimo Mi butta la carta a terra Così Eh, stai a volte lo faccio Su Irene La capitana dimenticata Esatto Hanno fatto le full art Probabilmente di tutti i capitani Adesso manca solo Rika Sì No, perché avevano fatto Liam Beh, hanno fatto appunto Su Irene Cauwe Ibis Chris Malpi Sì Sì Manca solo Rika Figo Molto Molto bene Da almeno un'altra Ma no, ma poi la cosa Visto che appunto Noi collezioniamo Solo Solo le personaggi Solo le full art dei personaggi Bell'occhio e Su Irene Non dobbiamo comprarle No, infatti Ma poi perfetto Va benissimo Ok Ne abbiamo aperti tre Ci sono altre sei Sì Veramente euforico Ebbene Contando che ci sono Le full art Anche di tutti i Pokémon Le Rainbow dei Pokémon Le Bordoro Beccare quelle Vabbè che sono nove Personaggi Perciò sono tanti Perciò va bo Però Comunque va sempre bene Ok Un'uscita Un'altra Sarebbe perfetto Ok Il codice 1,2,3,4 Se uscisse un'altra Sarebbe perfetto Non lo so Mi sembrava Adesso vediamo Sembrava un po' Buia Poco zigrinosa Buia Laxio Shieldown Fossile sconosciuto Lemiao Triplum Sensiudialola Hippopotas Piolu Ghibol Ah, Palchia G Esce solo Palchia G Canale Si chiamerà Palchia G Channel Palchia G Full Art Ci vediamo su ebay Bello Palchia G Controllo spaziale Pressione S6 mosse Notare che è bellissimo Questo coloraccio Oliva Del tipo drago Il tipo drago Lo sfondo È benedetto Orribile Si è messo Nella fangazza Infatti Non ho capito Perché gli diamo Sto colore Vabbè Procediamo Però comunque Già meglio Della prima parte Sì Perché È uscito Solo una stella Prisa Ok Allora Procediamo Qua Possa Sono contento Per sui Adesso Magari Se esce Qualche GX Normale C'era Qualcosa Di nero Qua Eh Ma Forse Era Questo A bordo Qua Sarà Ce la fa Ok Se smetti Di farlo Ballare Allora Eletro Oh Spiritom Non è ancora uscito Mondo buio E terrorizzare Sempre simpatico Spiritom Rotom Normale Rotomotore Sferzata di plasma Oh L'energia Unione Erba Fuoco Acqua Che non è ancora uscita Snizzle Lickitung Carnival Bellissimo Zlemiao Driflum Martes Aracuanid Non era ancora uscito Sì Molto figo Aracuanid Con le otter Diciamo Perché stendo L'erbo Ok Dovamo aprirla Non credo Ma io mi chiedo Dove cazzo Sono le jigs Questa forse è una jigs Forse è un palchia Gente Forse abbiamo trovato un palchia Anche lui Anche lui da passione Misterioso E' vero Anche Shilden Schermo ordini Monferno Chimchar Passimian Buineri Carnivine Snizzle Driflum Silvalli Buono Buono Silvalli Silvalli GX Che ha un disegno diverso Rispetto a quello di Invasione Scarlata Ma è la stessa carta La stessa carta Rionita giroscopica 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 Modulo turbo E ribelle GX E' identico E' lo stesso Silvalli Il disegno è più figo questo Sì infatti E che cazzo Non era possibile Era solo palchia Beh molto figo Silvalli Ok Next one A quante caspio siamo 6 e 3 e 9 Buono Cos'era quel Tututututu Non lo so E' il mio cervello Che va in tilt Inità Capito Ma anche la fotocamera Va in tilt Inità Oh Non ce l'ho fatto Maria Maria Aiutaci tu Ok Guarda E' one Two Tripo Ma questo Probabilmente Un'altra full art E' un altro palchia Un altro personaggio Un altro personaggio Acqua Tartonator Martes Roma Elettro Cerubi Veneri Hippopotas Passimian Schinx Tutte quei Itram Ah Lithium GX Lithium GX Rainbow Sì Micchia Vabbè Anche questa Ebay Is calling you Lithium GX Alito di foglie Adesso dal raggio Questo però è proprio bello Così Scobalenoso Lithium Caruccio Bene Mettiamola qua Insieme agli altri E noi ci vediamo Al prossimo pacchetto Onzio Gli ultimi due pacchetto Donzi Sì Decomposto Ma Ok L'8 Crangios Dugtrio di Alola Skateboard di fuga Sì 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 Ok Ok vada Giebol Krogank Tartwig Rosella Giebol Magnemite Arton Gelo Ok Questo è che mancava Mi sembra che ce l'avessi L'ultimo pacchetto Ozzo Arton Gelo Questa parte è già andata meglio Vabbè E l'abbiamo E l'abbiamo E l'abbiamo Il codice Ok Eletro Drift Drift Blim Blocco Amici Spiritomb Carnivine Nizzle Eevee Magmar Morelul Possile sconosciuto Abomasnow Che non era ancora Preghiera dei ghiacci Non era ancora uscito Aboma Ok Bene Il bottino sono Un Suiren Una Suiren Un Paltia GX Che è intramontabile Il Silvalli E il Lifion Bene Questa era la seconda parte Ne rimangono due Adesso iniziano le cose fighe Perché iniziano le due necrozma Da vedere Bene Con questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao